Musica Prima di viaggiare in macchina il Papa viaggiava in carrozza piuttosto che in lettiga o in portantina. Il Papa ormai stanco, anziano, sofferente, non riesce a stare in piedi sulla Papa Mobile durante il giro in Piazza San Pietro. Ecco che dietro viene sistemata una seduta, altro non è che la sedia del barbiere di Giovanni XXIII. Grazie a tutti!